Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info colata la sorte che ruvina la cantaia e se mani avrebren la fattata quando se ne tracetti marronaia il rosto con la coppa aveva in data e tutti i mattina ora che la flessa vengono un raggio dove come cosa se vengono con la flana per la destra mentre c'è i d'opera se sengal a marrona che sto mi par no veri mille bella cosa che sto mi parlo dorme o cnevi incienma a destra mi età a destra fianca a destra Grazie per la visione